Taranto, capitale dei tumori. In aumento del 15% l'incidenza dei tumori nell'area del sito dell'ILVA di Taranto è quanto emerge dall'indagine epidemiologica Sentieri, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, che verrà presentata il 18 settembre al Ministero della Salute, che riguarda 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche. La ricerca già pubblicata sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione ha trovato in particolare per l'area di Taranto un eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore del polmone per entrambi i generi, un eccesso compreso tra il 50% uomini e il 40% donne di decessi per malattie respiratorie acute e un aumento del 10% nella mortalità per le malattie dell'apparato respiratorio. Nelle conclusioni si afferma che nel periodo 1995-2002 i dati mostrano un quadro della mortalità per la popolazione residente nel sito di Taranto che testimonia la presenza di un ambiente di vita insalubre. Gli incrementi di rischio sono riferibili, secondo gli autori dello studio, a esposizioni professionali a sostanze chimiche utilizzate o emesse nei processi produttivi presenti nell'area. Il ministro Renato Balduzzi riceverà nei prossimi giorni anche nuovi dati sul rischio dal centro per il controllo delle malattie.